E' con noi Rodolfo Errore, Presidente Sace, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie a voi. Avete da poco presentato il rapporto export 2021. Quali segnali arrivano per il futuro? Grazie per la cortese domanda. Dal nostro rapporto export di quest'anno, che non a caso si intitola, o abbiamo chiamato ritorno al futuro, arriva un segnale inequivocabile. Per il 2021 Sace prevede un incremento dell'11,3% delle esportazioni italiane di beni in valore, che permetterà un pieno ritorno a livelli pre-pandemia. Nel pieno successivo le vendite si attesteranno in linea di massima su una crescita media del 4%. Questo ritmo così sostenuto, superiore a quello pre-crisi, consentirà di raggiungere nel 2024 il valore di 550 miliardi di euro di esportazione. Un risultato straordinario, che si inserisce in un quadro congiunturale che ci rende ottimisti. Continuando a parlare di export, il 2020 è stato un anno che ha registrato buoni risultati, nonostante la pandemia. Qual è stato il vostro impegno e quale sforzo state mettendo in campo nel 2021? Grazie. Nel corso del 2020, in un contesto complesso ed emergenziale, non abbiamo trascurato la nostra vocazione iniziale, ovvero essere il partner di riferimento per le aziende italiane che vogliono crescere sui mercati esteri. Lo siamo da oltre 40 anni, non voglio dare dei numeri autoreferenziali, però abbiamo accompagnato in questi anni 26 mila imprese in 200 paesi, con 156 miliardi di euro di transazioni assicurate ed investimenti garantiti. Quindi numeri importanti che testimoniano un impegno che portiamo avanti attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni assicurative finanziarie che sono in grado di coprire tutte le esigenze delle imprese nel loro percorso internazionale. Quindi la nostra operatività è un'operatività concreta, un'operatività proattiva. Dall'inizio della crisi sanitaria ad oggi abbiamo mobilitato 38 miliardi di euro a sostegno dell'attività di export e di internazionalizzazione delle imprese italiane. Un volume davvero importante che testimonia il nostro impegno da sempre, il nostro impegno al fianco delle aziende e il nostro impegno anche in un contesto difficile come quello dell'anno che abbiamo appena passato. Sace ha svolto un ruolo cruciale di sostegno alla liquidità delle imprese durante la pandemia. Come evolverà con il ritorno alla normalità? Bene, questa mi sembra una domanda molto utile anche per delineare il quadro del futuro della nostra società. Il 2020, come sapete, è stato un anno di grandi cambiamenti per Sace e per la sua missione a supporto del Paese. Un anno in cui abbiamo aggiunto linee operative che ci hanno visto sviluppare e mettere a terra in pochissimo tempo nuovi prodotti con l'obiettivo di affiancare le imprese italiane sul mercato domestico, sia durante la fase emergenziale sia in una logica più strutturale. Quindi, come tanti sanno, siamo intervenuti e continueremo a farlo fino alla fine di quest'anno a sostegno della liquidità delle imprese attraverso lo strumento di Garanzia Italia con il quale abbiamo supportato le aziende colpite dal Covid-19 associando le nostre garanzie ai finanziamenti bancari. In questo ambito, dall'inizio della pandemia, abbiamo mobilitato risorse per 28 miliardi di euro per un totale di 3.000 richieste ricevute. Il nostro mandato è stato anche rafforzato in una logica più strutturale per sostenere il ritorno alla normalità e alla cosiddetta new normality dell'Italia che inevitabilmente si dovrà basare su una forte accelerazione degli investimenti in sostenibilità, in infrastrutture e in digitalizzazione. In questi ambiti che sono settori strategici per il cambiamento del nostro Paese e sono dei settori imprescindibili per il cambiamento del nostro Paese, il nostro contributo sarà fondamentale da un lato con le garanzie e coperture assicurative per progetti strategici di natura infrastrutturale e dall'altro con un nuovo ruolo a sossegno del new green deal. Infatti noi siamo attuatori e gestori di un fondo tematico che ha una operatività italiana e proviamo ad intercettare in questo caso uno dei maggiori trend globali di sviluppo. Cosa facciamo rispetto al new green deal? Possiamo rilasciare garanzie fino all'80% del valore dell'investimento in favore di nuovi progetti domestici in grado di agevolare la transizione ecologica italiana. Ecco, proprio a questo proposito, come sta andando la nuova operatività e quali sono le aziende che intendete supportare? Grazie, questo nuovo mandato che ci è stato affidato dal decreto semplificazioni a supporto della transizione ecologica sta andando molto bene. Dalla via dell'operatività green, fine del 2020, ad oggi abbiamo mobilitato circa 1 miliardo.4 e abbiamo incontrato 300 aziende potenziali e beneficiali di questo strumento. Nell'ambito di questa operatività SACE impone in esse un'attività istruttoria, valuta la validità e l'eleggibilità dei singoli progetti che dovranno essere conformi ovviamente ad una tassonomia definita all'Unione Europea. Quindi, questo mi piace sottolinearlo, ci saranno opportunità per le imprese di ogni dimensione. Non abbiamo delle limitazioni sulla size. Se posso darvi un'indicazione numerica anche di proporzione delle imprese che si sono rivolte a SACE per l'eleggibilità sulla garanzia green, fatto 100, il 75% di queste imprese sono PMI. Questo dato ci dà una fotografia importante della connotazione del settore nel nostro paese. Cioè, la gran parte delle imprese sono PMI, quindi questo vuol dire che la leadership, che il grip sul settore è anche e soprattutto nelle mani delle piccole e medie imprese e non si tratta di un settore esclusivamente riferito o presidiato dalle grandi società. Come si delinea la sostenibilità in SACE e quali sono i pilastri strategici nel medio e lungo termine? Grazie, è molto utile anche questa domanda perché noi non siamo soltanto promotori della sostenibilità verso i clienti di SACE, ma anche noi abbiamo un piano importante di sostenibilità della nostra società. Da circa 20 anni ci avvaliamo di un'unità specializzata per valutare l'impatto ambientale in base alle linee guida dell'Ox e il report sulla sostenibilità che abbiamo pubblicato a luglio è stato un ulteriore passo avanti per una maggiore attenzione al green. Va proprio in questo senso l'adozione della climate change policy che abbiamo adottato recentemente. Si tratta di una serie di misure ad hoc per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti. Per concludere ci troviamo ad un punto di svolta decisivo in cui la sostenibilità è ormai una scelta imprescindibile. Credo personalmente che dovremmo puntare su politiche economiche espansive, sull'attuazione del piano di Next Generation EU, su un sistema finanziario globale focalizzato sul finanziamento dell'economia reale, sull'eccellenza del nostro tessuto imprenditoriale e credo su un'ambiziosa agenda verde. Tutto questo in una logica inclusiva a servizio delle generazioni a venire. Grazie per essere stato con noi. Grazie.